Ecco, facciamo l'ultimo grano in cui pronuncio un auspicio e poi me ne vado. Divido i passaggi. Che categoria è ragazzi? Mi rivela che categoria è. D come domodosso. Ma non ha una B1 o modem. Abbiamo anche una D. Però la D è giovanile, evidentemente. Che anno sono? La D17. Quindi è come la terza squadra? Una via di mezzo? Sì. C'è la prima, poi la B. Quella D17. Bello. Ci mettiamo in un angolo qua. Non so se verrà. Facciamo un fotografo. Mi somiglia a Marco Nardo. Si cercano ruori. Comunque, ecco, ci sono le telecamere, pensate. Sono telecamere evidentemente tutte, automatici. Facciamo vedere. Bene, in pochi secondi proprio. Quanto darei per raccontare il spogliatoio? Come dicevo con Giulio Gabbana, quanto darei per raccontare la vita di Giulia a bordo dell'Affraport? O raccontare casa di Katia, di Benigni, dei campioni, di Democra? Cosa, ne parlavo con Pietro Barone, cosa che hanno fatto, ha fatto Maurizio Polantoni, ad esempio, con Mazzanti. Anche solo per raccontare questi giovani. Questi sono Ander 17, quindi sono effettivamente, e anche meglio di no, Modena Volley, a parte che, insomma. C'è assolutamente una cosa che ci tengo a, tengo assolutamente a una cosa, a una sola cosa. Dobbiamo di disturbare il meno possibile, di disturbare il meno possibile. Mi piacerebbe salire lassù, 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 lassù. Tra l'altro prima non sono neanche passato, l'ho sbagliato. Comunque via, pazienza. Quello che vorrei far vedere sono i simboli lassù. 12 campionato italiano, 12 Coppa Italia, sono laggiù, forse, beh, da in mezzo al campo forse riesco. È meglio che nulla. Carnevale, famiglia Fabieroni. Siamo solo da qua, fermiamo solo da qua, per far vedere una sola cosa, prima di andarcene, ovvero quel poco che si vedrà, lassù, beh, questa è una delle immagini più belle per noi, sono passati anni. Ma lassù, 12 campionato italiano, 12 Coppa Italia, 4 Champions League, 5 Coppa Cels, 4 Supercoppa, 3 Coppe delle Coppe, 1 Supercoppa Europea, 1 Challenge Cup. Meraviglioso, meraviglioso, semplicemente, meraviglioso. Questo significa essere l'app al lavoro, il club, tutto quello che si chiama, perché invece è, lo rimpiamo. Pochi secondi e, anzi, lasciamo questo, no, ecco, quanto darei per, e se fossi, se fossi di Modena, se avessi una disponibilità economica diversa, sì, 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 valsa, vedete, magia, meraviglia, lassù, cpl, concordi, lassù, valsa, gru, ok. Avrei voluto, ho chiesto al comune di poter raccontare, ma mi hanno chiesto di scrivere a Modena Voli, ci fermiamo qua per oggi, parliamo di magia e meraviglia, magia e meraviglia. Bene, questo il, che bello il tempio, soprattutto quando, quando non lo puoi frequentare, bello, 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 bello. E con questa, leviamo il disturbo, Modena Voli. Sì, inizia il secondo tempo, anzi, no, è già iniziato.